Cioè se mi dicessi padroni, penso che abbiate un po' parlato, no? Firmate che vi pago tra tre giorni. Io penso che ci sono delle regole. Ah, vabbè, sai che magari vi dice... No, no, vabbè, ma a questo punto non è neanche più questione di venirsi con, anche perché di promessa sinceramente abbiamo aspettato per mesi e mesi e mesi. Quindi, innanzitutto, bisogna fare un discorso che non si sa neanche se c'è questa proposta, quindi non può neanche dire se c'è questa eventualità. Nel caso ci fossi questa eventualità, posso prenderla in considerazione, ma tanto non penso che ci sarà questo tipo di discorso. Però intanto noi facciamo quello che è giusto fare secondo le regole, secondo la legge, cioè non è il 31 marzo, non è arrivata all'improvviso... No, non è arrivata da due parti, non è arrivata. Oggi è il 31 marzo, comunque ci sono stati dei mesi delle cose che mi hanno portato comunque a questa data, rimanendo così in attesa di quattro eventualità che sono tantissime per noi. Sì, sì, sempre, qualche anno. Diciamo che non ci succede. Ho. Grazie.